Giunge alla terza edizione il Mediterraneo Jazz Festival organizzato dall'Associazione Culturale Mediterraneo con il sostegno del Comune di Marciana Marina e della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno con il patrocino del Ministero del Turismo. L'appuntamento italiano della musica jazz e della World Music dell'area mediterranea si terrà dal 5 al 9 luglio nella splendida cornice di Marciana Marina. Come ogni anno il festival richiama musicisti di primo piano nella scena musicale europea, dagli Avona, vincitori del contest dell'anno precedente all'Eufonia Ensemble, gruppo vocale composto da 6 elementi con musiche ritmiche e sonorità particolari provenienti da varie culture del mondo arrangiate ed eseguite nell'ingaggio musicale del jazz e poi il nuovo Tango Ensemble che propone le musiche di bassa estrazione tramandate dagli emigranti del Sud Italia. Chiude la rassegna il noto The Tree of Oz, Fiat, Omar Hakim e Rachel Zeta che vede la straordinaria partecipazione di Omar Hakim, leggendario batterista Weather Report, Sting, Mace Davis e David Bowie, confermata anche quest'anno la direzione artistica di Luigi Campoccia, pianista e compositore che lo scorso anno presentò al festival On the Way to Damascus, progetto discografico di stampo europeo promosso a pieno titolo dalla critica italiana ed esportato poi con successo in Turchia. Lo scopo reale del festival afferma Campoccia e la promozione del dialogo culturale sostenendo la formazione e la crescita professionale dei giovani e di tutte le forme di dialogo fra le comunità. Questi obiettivi saranno raggiunti stimolando una sensibilizzazione della cultura musicale del Mediterraneo.